E ormai solo questione di ore, da domani 15 ottobre entra in vigore l'obbligo di avere il Green Pass per tutti i lavoratori del settore pubblico e privato, pena la sospensione dello stipendio. Un provvedimento annunciato da tempo, ricompreso nel recente DPCM a firma Draghi, per il quale sono tuttora in corso polemiche e critiche. Ridotta la percentuale dei lavoratori non vaccinati nelle imprese del commercio, servizi, turismo e artigianato della provincia di Salerno. Un dato che non preoccupa il vicepresidente della Camera di Commercio, Giuseppe Gallo, mentre allo stesso tempo si registra la perplessità di Confesercenti che invece entra nel merito dell'utilizzo del certificato verde. Il presidente provinciale della Confesercenti di Salerno, Raffaele Esposito, neopresidente vicario della Confesercenti regionale, ritiene infatti eccessiva in assenza di un'obbligatorietà vaccinale tutta una serie di controlli e costi a carico dei datori di lavoro, specie per quelli delle imprese medie e piccole che dipendono in maniera vitale dalla presenza effettiva dei propri collaboratori in azienda e senza i quali inevitabilmente sarebbero costretti a chiudere le attività. Le imprese, ha dichiarato Esposito, hanno necessità di sentire vicino il mondo istituzionale per porre in essere una vera ripartenza. E mentre a livello nazionale per domani 15 ottobre si annunciano anche disagi nei trasporti, il vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno, Giuseppe Gallo, valuta tranquilla invece la situazione nel salernitano, guardando soprattutto alla necessità di non fermare l'economia e all'opportunità del vaccino, confidando nella prevalenza del buonsenso più che sulla gratuità del tampone per ottenere il Green Pass. Beh, le devo dire che onestamente nella provincia di Salerno abbiamo un clima abbastanza tranquillo. Posso dire da rappresentante delle imprese che sicuramente avremo dei problemi domani, però la situazione delle imprese è una situazione abbastanza... l'aria che si respira nelle imprese è un'aria abbastanza serena. La maggior parte dei lavoratori sono tutti vaccinati, che percentuale si registra di persone che da domani non avranno il Green Pass? E come ci si comporterà nelle aziende? Beh, innanzitutto la situazione è abbastanza, come le dicevo prima, abbastanza tranquilla. Parliamo all'incirca di un 10% di lavoratori non vaccinati. Per quanto riguarda la posizione da prendere all'interno dell'impresa, è l'imprenditore stesso che deciderà cosa fare, se assisterlo facendo dei tamponi oppure sospendere il lavoratore. Sono arrivate segnalazioni in Camera di Commercio? No, ripeto, segnalazioni non ce ne sono arrivate in questo senso. L'unica cosa che posso dire come rappresentante della Camera di Commercio è invitare tutti i lavoratori a vaccinarsi. È un momento difficile, usciamo già da una crisi economica dettata dalla pandemia. Dobbiamo riaffacciarsi al mondo del lavoro e abbiamo bisogno della collaborazione di tutti. È importante vaccinarsi perché in questa maniera non si mette a rischio il lavoro della propria impresa. Le imprese di tutti, ma tutti quanti dobbiamo in maniera responsabile andare avanti e vaccinarci. Il Covid ha fermato, poi è rallentato l'economia. Domani a livello nazionale si annunciano anche delle mobilitazioni, soprattutto nel settore dei trasporti. Beh, non possiamo che prendere atto. Le manifestazioni, per quanto vanno svolte in maniera civile e nel rispetto del lavoro altrui, vanno accettate. L'unica cosa che tengo a precisare è che non è il momento di perdere tempo, è il momento in cui dobbiamo ripartire, è il momento in cui dobbiamo riportare il lavoro nelle nostre aziende e è il momento in cui bisogna lavorare e andare avanti.